Ciao a tutti! Bentornati su nostro canale! Ciao! Allora, oggi facciamo una challenge che avevamo già fatto anche l'anno scorso e noi vi daremo dei comandi e voi dovrete farli chi non li fa correttamente o chi cade dalla trave sarà eliminata e viene qua a sedere rimarrà solo una alla fine e sarà la vincitrice di questa sfida Siamo pronte? Siete belle? Ok! Allora, per partire facciamo un bel pennello alto Via! Beh! Viola subito! Uno! Uno, uno! Basta! Ora facciamo tre passi verso il materassone Con le gambe belle, eh? Ok! Ci giriamo di qua Con i piedi a posto Nike! Ok! E facciamo tre slanci! Via! Un'altra parte fuori Uno Due E tre Ok! Ci rigiriamo di qua Tocchiamo la trave E ci rialziamo belle Ritocchiamo la trave E questa volta ci sediamo Sulla trave Facciamo con le gambe unite e unite Una bella squadra Tre Cinque secondi Via! Uno Due Tre Quattro Cinque Scendo Mi metto a gattino guardando il materasso E cammino finché la Chiara non dice stop Con la gobba Con la gobba Braccia tese Stop Mi alzo Guardate noi Con un saltello apro le gambe con un salto Vai Nike! Ok! Richiudo Riapro veloce Richiudo veloce Tu non hai saltato Rebby! Chiudo e apro di nuovo Vai! Salto e chiudo Salto e apro? 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 Con un salto Richiudo E richiudo Ok! Ok! Poi facciamo Mi giro di qua Vado sulle punte Con entrambi i piedini Braccia bellissime Resisto Cinque secondi Uno Due Spingo Dure le gambe Tre Quattro Cinque Scendo Alzo una gamba Braccia bellissime Resisto Uno Due Guarda le tue compagnie Tre Quattro Cinque Scendo Con l'altra gamba ora Vai Rebby Uno Due Tre Quattro Cinque Ok! Da lì Continuate a guardare In là Facciamo un altro pennello Via Un po' più bellino Con le braccia belle Non i piedi uniti Via Tre coniglietti Uno Due Dai Rebby Rebby vai un po' più indietro Vai Sì dovete andare in avanti a fare i coniglietti Rifacciamolo Uno Due Nike un po' più su questo ed è rotto Dai Sì Rebby eliminata Mi giro di là Mi giro di là Allora facciamo così già da Fai due passi in là Ok guardate me Mi siedo sulla trave E mi draio Mi draio A pancia in giù A pancia in giù Nike Cosa stai facendo? Pancia in giù Ok Ora Appoggio le manine E con un saltello Provo a alzarmi Appoggio le mani E salto Sedere su Ok Adesso velocissimo Quasi Tutto quello che vi dice Dovete farlo velocissimo Ok Se uno non lo fa Quando lo dico La Chiara la elimina Ok Dovete farlo subito velocemente Continua a guardare di là Tre passi avanti Uno Due Tre Due slanci Uno Due Cinque passi indietro Uno Due Tre Quattro Cinque Le braccia però sono belle Tocco la trave Mi rialzo Due passi indietro Pennello Un altro un po' più bellino Ok Mi siedo sulla trave Mi rialzo Anzi squadra aperta Anzi squadra aperta Che non l'abbiamo fatta Cinque secondi Via Uno Due Tre Tre Quattro Mi rialzo Mi rialzo Con un saltello Mi giro verso le sedie Via Con un saltello Verso Di là Di là Verso Verso di noi Tocco la trave Mi rialzo Velocissima Tre passi di lato Di là Di lato Braccia belle Mi mettevi sulla trave Di là Mi giro Mi giro Mi giro Mi giro Quattro passi a paperino Via Mi giro Mi giro Mi giro Allora adesso facciamo braccia belle Salto del gatto Gatto Oh che bruttino Se no chi lo schino Alza le ginocchia E' eliminato Ok Lo diam buono Pennello raccolto Pennello raccolto Raccolto Pennello raccolto Sulle ginocchia Ok Vai Oh Nike Un po' di più Dai Spingiamo Sulle ginocchia Eliminata Sono rimasta in due Facciamo la capriola avanti Guardando in là Vai Capriola Vai Marty Marti se la fai hai vinto Stringi Allora facciamo così Riprovate tutte e due Chi la fa prima vince Aspettate che vengo vicina Riprendermi Vai Vai Porte Giada Stringi parti i gomitini Ok Marti se la fai Avete vinto pari Se no vince Giada Dai Marti mi raccomando Stringi i gomitini Mave Ok vi siete meritate un pari merito Avete vinto entrambe questa sfida Siete contente Sì Ciao a tutti Ci rivediamo nel prossimo video La prossima sfida 200 like Ok Facciamo che ci dicano anche Cosa vorrebbero vedere Di sfida Va bene Dateci un po' di suggerimenti E loro I seguono Ciao